Ciao a tutti! Salve salve! Questa è la open media di... Terra! Un po' un clone di un sacco di giochi però Allora, come vedete io ho già creato un personaggio Miriel, ovviamente, vedete le tette che si agitano Queste cose imbarazzanti Sì, ed è tipo un sort of ours Ah no, è proprio un sort of ours, se no è il tipo Adesso però vi facciamo vedere Siccome mi piace tanto il rush, ho anche la creazione del personaggio Sì, mi piace! Partiamo! Vai! New cactus! Facciamo un uomo a sto giro Ho già una donna Vabbè Ah, qui c'è adesso tutta una menata abbastanza lunghina di presentazione Sì? Che ne salteremo, sì Tanto lunga? Non lo so, abbastanza Ma carica? Caricato oggi, carica Stai a portare sfiga? Visto? Tiet, tiet, tiet Eccolo qua Puoi farlo umano Castanico Wow Hamann No Popoli No, lo puoi fare puffoloso Le man panda, credo Eileen Solo femmina Sì Solo maschio Ah, ok Quello del video Sì E altri elfi Io ho l'alta elfa Oddio no, è troppo fracissimo questo Io direi Umano Niente umano No, umano Questo è proprio grosso C'è uno grosso Dai, Stai Quello vogliamo chiamare Diciamo warrior O berserk Sono triste Poi le facciamo un altro umano Sono proprio triste Dai Mutandazza È proprio brutto Non è Me ne faccio uno brutto adesso Così Mi faccio vedere uno Come dice lei brutto In realtà non è brutto È fichissimo Ma sarà fichissimo per te Non saprei manco come abbellirlo Un coso del genere Io sì Guarda qua Quanto è grosso Voi maschi Ci avete questa fissa del grosso Eh Chissà perché Te la dovresti chiedere un po' Mi do un nome Devi compensare qualcosa Tu scusami E allora Io vengo la stessa Di giorni rock così Freddi Ecco qua Lo chiamiamo pure Strik Un finish Non ci gioco Scusa La donina è più fregna Da far vedere No, metti il nome Non lo posso usare Allora lo devi No Se non puoi usare il nome Te lo fai fare da capo Vabbè Una mezza merda Andiamo avanti Questa cosa è brutta assai Vai Giochiamo Va a play Sì Con questo Non lo dico manco Cosa sembra Dai no Lo puoi dire No vabbè dai Non lo dico So signora Ah Questo è un gioco action Cominciamo a parlarne un po' Quindi vi chiedono all'inizio Quando create il personaggio Se volete usare Il gamepad O tastiera e mouse E noi andiamo Con tastiera e mouse Ovviamente Sì Qui siamo in città Vedete c'è il puntatore La grafica Uh l'arcobaleno Ne sa Corriamo un po' Mi stile linea Cioè un po' Piegate troppo in avanti No Tu corri Che quello dietro di te Si deve mettere la sciarpetta Per l'aria che sposta il tuo culo Quindi corro come un po' La sciarpetta da culo Quello diciamo Nel senso che Sculetti da morire Ok Nel mio sculettare Adesso È anche un po' Guarda che tacco Ah che tacco Facciamo vedere che tette Cioè a me Ma che cosa è questa E dai Eh Io Come diremo da queste parti Ve lo rovino Dopo che è finito Tatatatatata Ok Le spelle lanciate Io non commento Poco action Tasto S e tasto sinistro Come potete vedere in basso Ma questo è in città però Sì questo Doveva avere anche le altre spelle Però in città In città In città Mi sono emozionato Per la storia Sessuale E dai Ormai C'è st'emozione C'è st'emozione Ma ti sputacchio Vabbè io prendo delle quest Questo è abbastanza a base C'è poco Cambia poco Diciamo che sono su un server pvv Perché io In pvp nei giochini Dove c'era lag Ci credo poco Non ci piace Non ci piace No 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 Ah poi vedete mi dicono Suggerimenti tipo Guarda puoi correre Tipo occhi di gatto Ecco Oh 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 No Può essere Dai guarda Hai fatto un patto Però guarda che bella visuale Anche l'ombra Guarda Ma sto sole Spasmagorico Fichissimo Ecco Ti va a correre Ok il mondo mi piace Ma te lo dico Da non avevo dubbi su questo Ah qui ci sono dei tizi Credo Con cui poter parlare Si interagisce con la F Allora Una ne prendo Una ne do Una ne prendo Detta così Sempre Visto la posa che ho Brutta sai Guarda Visto la posa che ho Mi rendo conto Che non è Non plus Ma qui dice che c'è una quest dietro Guarda Da quest C'è un Sì Questi asterisco Questa che mi sembra una sorta di scudo In realtà non lo è Sì è uno scudo Uno scudo Una specie di scudo magico Comunque nella fase iniziale C'è un lungo promo In cui Farete che puoi nuotare Salire e scendere scale Si puoi nuotare? Sì Fico Sul salire e scendere Delle scalinate Ti dico subito Che fa schifo la grafica Nel senso che i piedi e le mani Non toccano sui pioni giusti Ah Questo aveva qualcosa per me E questo no Non lo so No E vedi c'è sto segno Da un Ma più avanti Forse qui Eccolo qui L'ho proprio bypassato Dai anche lo stesso segno Ok questa è una cosa carina Eeeh Ho livellato Viva No Le musichette pure so carine Si Loro non le sento Quindi dovete fidare di quello che vi stiamo dicendo L'enorme mappa in trasparenza Allora abbiamo Uno Una quest E qui intorno No No Credo che sia Qualche problema con il mouse Ma poi lo risolveremo La controlla di dietro Perché sapete che c'è un gatto per casa E il gatto Partecipa Attivamente Alla vita di questa postazione Si Animare i miei fili Dai facciamo vedere un po' di combattimento Eh c'è nel promo Io posso tirare spell Vi faccio vedere un po' di spell Ah Perché io prima ho visto che è a livello 20 Adesso sei a livello 1 Ah per fare il promo Ah Durante diciamo il prologo Vieni over livellato Per permetterti di farlo E hai anche un sacco di spell Adesso ho due spell Ecco perché Sì E anche un vestito più fico Sì è proprio vestito hubissimo Sì Adesso ho sta tunichetta Della profonda Si chiama Tunichetta Della profonda Omosessualità Ma che cavolo dici E' un po' lesbo No vabbè così Comunque continuiamo Che cos'è il punto interrogativo che lampeggia lì su? Non ho idea Se vuoi glielo chiediamo Beh Ah sono Gielp C'è un altro che lampeggia Toglilo che mi dà fastidio Subito Anche lei però non sta messa male Eh il vestito tuo di prima era tipo più o meno così Allora Vediamo ci sono altre Punti Altre Ok però è carino Che sia Graficamente Superiore Non mi permetto nemmeno di discutere Ma devi C'è in raccogliere Barra uccidere qualcosa Qualcuno Forse no Forse ci devo parlare Forse Ah no C'è in ammazzare Ah vedi Te lo Segnala C'è l'animazione di niente Di che però Ho visto di meglio Non sono male No 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 Però Sono buoni Devo uccidere 4 Per lutare F Sì Vediamo da quanto distante posso picchiarlo No No Deve anche Ecco qui da qui Da cosa lo vedi È diventato Il mirino Attivo Sì Wow Poi il tuo Ammazzavo due spazzola Allora Che altro Eh ma sei livello 20 È uno amico mio Core Fusion Che fa Ah mi dà questo Il 100% del mano Queste sono le pozioni Lutava Una pozione Maixir Sempre buono Un po' di Alci superstar Vedi 30 metri Quando mi renda così Ok Anche questa cosa Che i metri Sono segnalati È davvero carina Perlomeno per me Sarebbe comodissima Posso immaginarlo C'è gente Beh Sai Questa è anche L'open beta Di un gioco Ho fatto il livello 2 Di un gioco Di cui Se non altro Si è parlato molto Oddio Questo è come Aion C'è ragione Perché ha Diciamo Il gruppo che ha realizzato L'ex gruppo NCsoft I ragazzi di Aion Diciamo che lo ricorda Per molti aspetti Forse anche troppi Abbiamo chiuso a uccidere Un altro mi sa 3 di 4 Metto allora 20 metri Per sparare Questa cosa qua Vedi come si agita Lo scudino Che ho Sì sì Poi l'ho ruto Pensavo che infatti Fosse più una spell Che Cioè di attacco Che di difesa Io L'arte spallo poco Ma mi concentro per giocare È moruto Ok Adesso che devi fare? Riportare la quest Credo E poi andare in un campo E poi Che cos'è questo cuoricino Con scritto 117? Ci andiamo sopra Lo scopriamo Control Ah la stamina Il 117% della stamina Credo che sia Come il rest Una sorta di rest E le sue informazioni utili Certo Fai bene a fare queste domande Io Ho impegnato a ammazzare A giocare Vedi Abbiamo preso anche Tipo forse delle scarpine Sì Che non ti puoi mettere Deve essere livello 3 Bellissimo Soltivissimo Grazie Ma potrà un livello Lì c'è una quest Carino il punto interrogativo Che Non interrogativo Esclamativo Che ti esclama Ehi sono qui Ci sono altre cose da fare Che dobbiamo uccidere adesso Dei popò Ah Devo questi No Ah sì O no Vediamo Un gioco malino Ah sì Guarda Qui sopra Al mostro A livello Del Della vita Ti dice Se è della Questo oppure no Vabbè Dice pure Sua testa Eh ho capito Però L'hai visto Sì sì Insomma Non ti puoi sbagliare Sostanzialmente Parlando Non ti puoi sbagliare Non ti puoi sbagliare Come si dice a queste parti Continua questa Dio Che ti vuoi aspettare Un giochino Qualcosina di meglio Graficamente È un action Guarda Sai cosa L'impressione Che siamo Lì quei giochi Free to play Giappocinesi In realtà Qua si paga Fatto Stordinariamente bene No Eh ma Qua si paga Sì Però diciamo Che l'impressione È quella Voglio prendere questo Sto poco Ma che cos'era Non lo so Un poco Dai Eh vedi Te stronzi Meno Dai però Sono tutti piccolini Ma non vuoi Anche Sti alci Fantastici Probabilmente Sì No No Wow Carina L'alce Che ti punta Ma non lo Ti si incazza Hai visto Il respawn Oh Hai ricevuto Le scarpine Si Ci possiamo Mettere Le scarpine Credi si So meglio Di quelle che abbiamo No O Si Di poco Mettiamoci Di poco Ma meglio di uno schiaffo Sì Decisamente Credo che potremmo tornare a fare anche più una puntata di terra Tanto sono tre giorni la beta Allora non vi Promettiamo nulla E questo potrebbe anche essere il centesimo video Non lo so Dipende da quale caricheremo Potrebbe essere questo Sai Visto che l'open beta E allora potremmo Festeggiare Il cento video Che abbiamo detto avremmo fatto sull'otro Che faremo anche Anche sull'otro Però a questo punto È una questione di opportunità Questa è un'open beta Sì Sull'otro c'è anche il feste dei cinque anni A cui vi dico che colpevolmente al momento Ancora riesce a partecipare Per una serie di impegni Di VR Sì Molto 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 impegnata Mi ci dovrei Mettere però un pochino Me lo dovrei concedere Io adoro i festivals Proprio per quello Mi stupisco della tua latitanza festivaliera Quando? Se non ci sto mai a casa E c'hai ragione anche tu Non è un po' noioso però Che cosa? C'è in ammazzare qualcuno? Sì sono d'accordo con te Infatti direi basta Che mi sono rotta C'erano queste due quest E poi salutiamo Sì andiamo a riportare queste ciao Sì Devo ammazzare ancora dei noruk io Che palle sti noruk? Altri due noruk Diciamo che le prime quest Sono un po' di una palla Infernale Però magari andando avanti Proseguendo Un altro Trova un altro alce qua Un altro noruk 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 Ora in che sti noruk? La riservo di noruk Non ci sono mai Dai dove sei? Ma c'era una mappa grande Que? Quello perché chi mi voleva gra? Perché li sei passato sotto al naso L'ho visto questo Se non me lo ruba lei Ho uno sbadiglio Scusate Ti stavi a fregare il loot di uno No no Mi diceva che durante una quest Se faccio dei miei vai Posso ottenere un determinato tipo il loot Mazzalo Sono queste due spell Ce l'ho fatta Ok Li portiamo sta quest E viva E poi vi salutiamo Eccomi Oh Ho anche una staffa Non so che cosa sta Bragg staff Non la posso sapere Però il vestitello L'hai lo usato prima Forse è un po' meglio Ah posso sapere anche dei socket Vedi? Sì È un pochino più Più migliore assai Forse Non lo so Ci penseremo poi Non mi sembra molto Quello lo devo riportarlo qui Ah al durare i camp devo andare Ok Così scopriamo un posto nuovo Sì Ecco Questo ci piace Ah questa è la mappa Sì Allora il durare i camp è qui Sì Di qua Devo andare di qua Perfetto Credo che si cammini Siamo in quei posti dove si cammina Fino a morirne Tantissimo Sì Spero che almeno le mount valgano Quello te lo potevi prendere Ah sì Ecco perché c'è le chiappe sode Tutto sto correre? Mh mh Poteva essere un'interpretazione Sai? Mh mh Io credo di sì Non ci guardia un po' il culo Mentre corriamo È veramente imbarazzante Infatti ho appena soppassato il campo Per guardarmi le chiappe È veramente imbarazzante Ok Evviva Livello 3 Adesso ti puoi mettere quello che hai usato prima Sì Prima restituisca questo Poi metterci vestiti Ci pensiamo al prossimo appuntamento Non mi piace questo Sì sì Bla 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 Ok E la devi fare Ok Potremmo credo Ci sono altre questa Prendere tipo un tizio qua davanti Vabbè Per adesso vi salutiamo però Sì Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.